Magna, magna l'insalata Magna Ci mangiamo la pizza? Eh Va bene, probabilmente oggi Non registro, me la voglio prendere un attimo Di relax, avevo detto già la settimana scorsa Che mi volevo un po' riposare Ragazzi, mi voglio un po' riposare Quindi non so, non lo so se stasera faccio la live Non so neanche se la faccio domani Voglio riposare un pochetto Ragazzi, voglio riposare un po' Tanto i video ce n'ho un botto Ce n'ho un botto registrati, ci avrò almeno 10 video registrati Di cui altri 5 di Resident Evil Sto proprio contento Di come sto a lavorare E sto bello carico Però ho bisogno veramente di riposarmi un pochettino Almeno pochetto, pochetto, pochetto Spero che i video di oggi vi piacciano Anche perché è uscito alle 14 Fortnite, un video dove Stavo live e ho provato Il mortaglietto, quello dei razzi A me è piaciuta come partita, molto carina, delicata E poi c'è Brew Stars Signori, ti vediamo dopo Ciao!